Un giocatore che è rimasto nella storia, era un mitico nel campo del calcio e oltre a lui nessuno più lo pudo superare ormai. Maradona per me rappresenta comunque un simbolo di Napoli, del riscatto, ecco, mi piace ricordarlo quindi. Io vado per il mondo e vedo sempre Diego, il che ama non dimentica. E questo si mette nel cuore a me, perché non c'è nessun popolo, nessun popolo che mi abbia voluto tanto come vuoi. Grazie. 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 Grazie.